ci sono tre missioni per castella quante cartelle sono in totale per capire quante missioni sono ci sono dobbiamo sconfiggere qualcuno nel cestino spaziale per andare alla prossima cartella vediamo se come prima che ciao c'è l'attraverso cessione spaziale vediamo dubito che balla tutto rischio trasferimento completato infiltrazione nel cestino spaziale riuscita ok filato tutto liscio perfetto a no ecco il messo parlare un po troppo in fretta la prima volta che c'era un po' di questo tipo di spazio non c'è l'attraverso 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 Ma cosa vuoi fare? Perchè, bisogna prendere il modo da fare. Ma anche se vuoi pensare che il suo codice, il suo servizio? Tu sei che venire, ti prego. Allora, vedici a prendere! Il suo servizio! Eh, il nostro servizio, il suo servizio, e il suo servizio! strade verso casa, irregolare, va bene facciamo così, facciamola con lui che avevamo adesso e poi dalla prossima cartella cambiamo il laguna e cambiamo anche i compagni il compagno Miri è noto, uno è il cecchino, uno c'è il cannone o il tre con danni a distanza, non so quanto possa essere conveniente contro tutti i nemici poi devo fare attenzione che poi quello Miri non vuole non vuole a scusini attu dando scusini attuando Non c'è nessuno, ma un'armer? Chi è una persona che ha detto di un'armeria. Ma io sono un'armeria? Mi sembrava di un'armeria per il suo? Ma cosa c'è qui? E' un'armeria? C'è una un'armeria. Che si tratta di un'armeria? Che si tratta di un'armeria a l'armer? Che si tratta di un'armeria? Che si tratta di un'armeria! Sì, stiamo facendo tutto questo danno comunque, bello resistente questo carattino qua. Sì, stiamo facendo tutto questo. No, 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 no. l'attacco speciale ho avuto finito in me di questa volta sto facendo un notte, ho avuto pochissimo danno carica di perfetto entra gym, sta ragionando sto limito, ok comunque questo ci lancia sempre qualche messaggio questo, quindi dobbiamo capire perché ci vuole dire qualcosa livello 10 abilità pilota sbloccata, devozione infinita abbiamo anche la seconda parte completata, ci manca il progetto 3 adesso lei ci abbiamo solo una parte, ok cerchiamo la cartella il mobile armor, ma ecco perché allora non ci possiamo accattare non ci possiamo accettare il progetto non ci possiamo accettare il progetto non ci possiamo accettare il progetto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti